Buongiorno a tutti. Porto i saluti del nostro Presidente Gino Gandolfi, che oggi non ha potuto presenziare a questo incontro, e anche da parte di tutto il Consiglio di Amministrazione. La Fondazione ha aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa di recupero di questo stupendo edificio, comprendendo da subito che restituire alla città un monumento che racchiude in sé tanti significati e valorizzare una delle ricchezze forse più belle che abbiamo nella città era un compito assolutamente ineludibile. L'importanza di recuperare i valori artistici e culturali che possediamo in questa città, ma anche e soprattutto quelli che hanno un risvolto di tipo spirituale e anche sociale, come è stato ricordato poco fa, aiuta sensibilmente a sentirci più comunità e a creare e a sviluppare maggiori iniziative, maggiori luoghi condivisi nei quali ci sia, venga potenziata, fatta rinascere in un certo senso, la capacità di stupirci per il bello e per il buono. Credo sia importante che io ricordi anche il fatto che al quale il nostro Presidente tiene moltissimo, che il recupero di questo monumento va anche nella direzione di recuperare lo spirito di fondo con cui questo monumento, questa bellissima struttura è stata creata dai francescani per lo spirito che San Francesco ha importato a Parma alla metà, se non ricordo male, del 200. Quindi per concludere vorrei dire che la partecipazione della Fondazione è piena di stupore da un lato e piena di entusiasmo dall'altro lato. E quindi ci auguriamo che questo recupero diventi per la città un simbolo, come dicevo prima, di solidarietà, di socialità maggiore e di spiritualità maggiore. Grazie. 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 Grazie.